Con il mese di agosto ritorna puntuale l'appuntamento notturno con uno spettacolo suggestivo. Alcuni le chiamano lacrime di San Lorenzo, altri più genericamente stelle cadenti, nomi evocativi per quello che è forse il più atteso sciame meteorico dell'anno, quello delle Perseidi. Non sono lacrime né stelle, ma piccolissimi frammenti di ghiaccio e roccia che la Terra incontra nel corso della propria orbita. Per osservare le scie luminose che solcano fulmine in cielo, le notti ideali sarebbero quelle del 12 e 13 agosto, se la Luna lo permettesse. Proprio il 13 raggiungerà la sua pianezza, offuscando lo spettacolo delle Perseidi con la propria luminosità. Si consiglia quindi di cominciare a scrutare il cielo già dal 7 agosto, dopo il tramonto, in direzione nord-ovest. Con attenzione e un po' di fortuna, l'avvistamento di qualche meteora dovrebbe comunque essere garantito. Mentre siamo all'aperto, in attesa delle Perseidi, possiamo approfittarne anche per dare un'occhiata a Saturno. Lo sci può scorgere dopo le 21, in direzione ovest, a un'altezza sull'orizzonte che diminuirà progressivamente. Volgendo l'attenzione alle stelle, notiamo che continuano ad apparire luminose e facili da individuare quelle che formano il triangolo estivo, Vega, Deneb e Altair. Quest'ultima appartiene alla costellazione dell'Aquila, facilmente riconoscibile. Alla sua estremità meridionale si trova la piccola costellazione dello Scudo, all'interno della quale si può provare a identificare l'ammasso aperto M11. Questo gruppo di stelle è visibile anche a occhio nudo. Si trova a una distanza di circa 5.500 anni luce.